Oggi creiamo una squadra con un giocatore per ogni nazione, ma solo di Euro 2024! Non sarà la ruota a decidere, ma ci apriremo 11 pacchetti della nuova collezione UEFA Euro 2024 di Topps! Potremo scegliere qualsiasi giocatore della nazionale della figurina più rara, ma se troviamo un doppione o una figurina oggetto, dovremo scegliere un bronzino! E se lasci mi piace a questo video, l'Italia vincerà Euro 2024! Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha! Dobbiamo fare una signora squadra, ma se anche voi volete iniziare a collezionare e volete completare l'album di figurine, vi consiglio lo starter pack e vi ricordo che la nuova collezione di Topps la trovate in edicola, nei supermercati e su tops.com. Ma adesso, primo pacchetto! Oh! Oh, Sergio! Vabbè ragazzi, il sergente! Un amico! Tra l'altro, guardate che bella figurina! Quindi il nostro primo giocatore, non per forza deve essere Milinkovic, ma deve essere serbo! Che altro abbiamo trovato? Juranovic! Cristi! Holes! Batshuayi, ma ancora gioca Batshuayi! Allora ragazzi, dobbiamo essere strategici! Mi piaceva questo Milinkovic, ma credo che sia un obiettivo, insomma non si può fare! Vitic, l'abbiamo già provato! Bel difensore! Ma sai che sto Tadic, ma sto Tadic non vale manco niente! No, pure lui è obiettivo! Pavlovic, difensore centrale, che mi sembra ok! Dai, regà, prendiamo Pavlovic, facciamo una roba pazza, ma che ce frega, dai! Tanto costa niente, e questo è un video per tutte le tasche! Questo ragazzi te lo tirano appresso! Pavlovic è messo là! Abbiamo iniziato proprio la grande! Potevamo scegliere tra 11 giocatori diversi, io ovviamente ho scelto lui! Però avete capito, non dobbiamo scegliere per forza quello che ci esce, a meno che non è una leggenda! Poi vediamo se siamo fortunati perché ci potrebbero uscire le parallel, ovvero delle versioni alternative delle figurine speciali! Alcune sono veramente rarissime! Secondo pacchetto! Adesso però, una nazione è quella giusta! Vorrei fare qualcosa di esotico, eh! Oh! No! Giorginio, testa in giù! Giorginio! Italia! Non per forza Giorginio, infatti! Sono cascato nella mia stessa trappola! Italia! Me la prendo! Ma che alto c'era? Bello sto Giorginio! È forse pure più bello del dovuto! Grecia! Svizzero! E anche dei mulini! Italia ci abbiamo l'imbarazzo della scelta, eh! Guarda qua i più forti! Maldini! Nesta! Eh! Ma sto Balotelli! Non me di che sei obiettivo, dimmi che te posso prendere! Momenti toz! Ma me lo posso prendere? No, raga, Balotelli per forza! Pazza quanto costa! Balotelli Italia! Ripensi subito a quando fa così! Contro la Germania! Ci sarebbe pure i ropi Baggia! Guarda sto Del Piero, che bello! Buongiorno! Così! No, balo, balo, ragazzi! Ma sto Candreva! Che è sto mostro? Eh, però ragazzi, devi prendere Balotelli, dai! Non voglio storie! Andiamocela a stuccare! Boom! Mettilo lì! Balotelli is a striker! Guarda, io lo so! Che tu dici? No, ci dovevamo portare Balotelli! Ma che stai a di? Che stai a di? Se non mettete mi piace, non si vince sto europeo, eh! Allora, sta uscendo bella esotica! Ma adesso abbiamo il terzo pacchetto! Vi ricordo che se ci dovesse uscire adesso Italia o Serbia sarebbe doppione e quindi bronzino! Saremmo veramente sfortunati se in undici pacchetti ci esce il doppione, eh! Ooooooooh! No, non ci credo! Ah, ok, 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 scusate! Ma ho strippato, ho visto rosso, ragazzi! Ho pensato di nuovo a Milinkovic, invece è Dani Holmo! Della Spagna! Bello, Spagna, quindi... Oddio, Spagna! Ho trovato pure il Big Ben! Secondo me questi la rischiano, eh! Eh, ragazzi, adesso con la Spagna tosta! Cioè, Itana bomba di... Guarda il suo Grimaldo quanto spigne! Eh, ma Grimaldo spigna i chili da quando ha 15 anni, eh! Terzino esterno sinistro! Però dobbiamo essere intelligenti, ragazzi, eh! Ma sai che sta Laila Alexandri messa a destra o difensore centrale può essere il nostro jolly? Ma io te dico te sì! Esotica! Ma ragazzi, messa lì o messa di qua? Così capiamo, possiamo cambiare pure modulo! Ne so una più del diavolo! No, questo perché, ragazzi, lo sapete, c'ho un problema con la Spagna! Quarto pacchetto, ancora nessun doppione, fortunatamente! Allora, facciamola al contrario! Samarsic! Non ci interessa! Turchia! Hosun! Ryan! Non ci interessa! Oh, mi sa che l'abbiamo trovato doppio qua, eh! Ha! Mason Mount! Come se la ride! Ma non è lui! Perché? Ci abbiamo... Ha! No! Sì, Germania! Però è oggetto perché è lo stemma! Bronzino! Come lo prendo, un bronzino tedesco? Ecco, ce l'ho là sotto! Che schifo! Duda! E qua, ragazzi, kippiamo e che vendiamo! Cioè, che ne so! Allora, o puntiamo sulla corsa a Mainan Pong! O sui nomi! No, però regala Germania! Non ci puoi dare un pippero! No, uno il più scarso devo prendere! Tre più scarsi! Chi è il più scarso? 48 Egel! Ma no! Cioè, 48 non esiste! Ma fa solo quello! Eh, ma che fa? Che se sta fermo! 28 de passaggio! Cioè, praticamente, se fa X, non fa niente! Addrizzeremo questa squadra! Nuovo pacchetto! Signori di Euro! Signori di Tops! Datemi qualcosa di buono! Oh, David Alaba! Eh, ostia! Sotto? Spagna? Abbiamo trovato Alaba in versione capitano! Ecco, per esempio, di questa potrebbe uscire una parallela! Questa è la versione plain! Bello Alaba! Considerando la difesa che ci abbiamo, quasi, quasi! Avevamo trovato anche Schweinsteiger! Leggenda! Oltre ad averlo già trovato, Germania non è neanche la più rara che abbiamo trovato! Questa era un bel pacchetto! Avevamo trovato pure Mendes, Mihaila e Coman! Che è Nasheng Wang? Però, beh, no, 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 no! Ma lei va bene, tazzino esterno! Ma è un Tots! Ma chi è sto mostro, ragazzi? Quanto costa? 50k! Per 50k ce la metto subito! Non volevo fare una squadra solo Tots! Però, ragazzi, 50k se prende! Boom! Sniperata! Mettila lì! Goduriosa, ragazzi! 90 de dribbling! 93 de difesa! Devo dire, ragazzi, che ci potrebbe andare meglio, eh, arrivati a sto punto! Però, sono ancora fiducioso! Siamo adesso a metà! Dammi una leggenda a qualcosa di coloso, su! Non siamo stati fortunatissimi, eh! Yeah! No! Scozzese! Chi è il più scarso Scozzese, qua? Solo portieri? È Munro! Che c'ha la doppia squadra, Munro! Madonna, Munro parla con l'orecchio, ragazzi! Ma io ci credo ancora, ragazzi! Ti prego, signori di Tops! Ti prego, signori di Tops! Ah! No, vabbè, dai, basta! Stemma del Portogallo! Che altro c'era? C'era Grealish! Martin Marquez! No, vabbè, ragazzi, aspetta! Devo prendere qualcosa che mi può servire! Allora, o centrocampista... Madonna mia! Vai, bandolero! Mamma mia, ragazzi miei! Non ci hanno intesa, non si parlano tra loro! Ma noi non demordiamo! Ci abbiamo ancora quattro spot e, secondo me, qualcosa di buono possiamo fare, ragazzi! È andata male, ma adesso uscirà qualcosa di buono, per favore! Oh, Virgilio! Virgilio Capitano! Olandese! Bella, eh! Anche Kurtz! Non ci serve proprio lui, però... Olanda! Facciamo come ci pare! Guarda sto Cruif! Però è sempre Taske! Fim Pong! Snyder! L'abbiamo provato! Rude Hullet! Considerando come stiamo messi, ci potrebbe servire un centrocampista centrale forte o ci servono gli esterni! Però gli esterni credo che sia un po' più semplice trovarli! Ah, Malen! Un tranquillissimo Malen! 96 di velocità sulla fascia, sì, dai! È in prestito, ma voi sapete che poi in caso lo scartiamo tutti! È un caso molto probabile, considerando la squadra! Ultimo pacchetto del team che abbiamo aperto prima! La spircio così! Piano 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 piano! Che? Damsgaard! Ve lo ricordate? Thomas Müller! Danimarca? Chi c'è? Mamma mia, lascialo perde! Oilund, Smychel! Eh, però, sai, centrocampo! Ci manca, no? Eh, 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 pure lui! Billing? Pazzo, il suo billing è un baller! Billing momenti! Ma esiste? SBC! Madonna, ragazzi, fanno schifo! Possiamo il fratello di Oilund! Che è il cugino, chi è? Oscar Oilund! A difendere, sì! Prendo lui! Madonna, questo farà vomitare! Pensa, lui è bronzino! Vai, mettilo lì! Oh, secondo me sta venire una bella squadra per divertirsi, eh! Ragazzi, ci mancano gli ultimi due pacchetti! Possiamo ancora dire la nostra! Siamo stati sfortunati! Abbiamo trovato degli oggetti così! Però, vabbè, ce posso stare! Ah! No! Mamma, l'ho trovato, Virgilio! No! Vabbè, non ce posso credere, ragazzi! Per carità, è un ottimo doppione, eh! Però vuol dire, di nuovo... No! Facciamo valere questa che stava nel pacchetto? Come bonus? No! Infatti il Portogallo l'ho già trovata, quindi no! Verdoni! Eh, peccato che siamo portieri! Tutti i portieri! Noi avremo bisogno di un esterno-sinistro! Per forza, ragazzi! Dai, l'attaccante me lo voglio lasciare! Senti, facciamo così! Esterno-sinistro, bronzino, lag-seer o margaret? Eh, lag-seer! Non andrà da peggio, sinceramente! Raga, ultimo pacchetto! Vedi? È viola! Parallela! Uuuuh! Guardiol! Ma parallel! Una versione alternativa più rara! Godopoli! E quindi croato! Croazia, ragazzi, non lo so! Modric, ma non è il nostro uomo! Mazza, solo Modric in Croazia! Vardiol, ma non è il nostro uomo! Sugar, me rifiuto! Perisic ci potrebbe togliere le castagne dal fuoco! E niente, ragazzi! Mi prendo Modric, lo metto a centrocampo e poi ci pensiamo, dai! Non so trovare una soluzione a questo puzzle! Quindi, alla fine della fiera, questa è la nostra formazione! Probabilmente non ci puoi vincere Euro! Neanche qualificarti, cioè, fa veramente cacare! Non so se sfortunati, però, sì, vi ricordo, tops.com in edicola e nei supermercati trovate la nuova collezione di tops su UEFA Euro 2024! C'erano più di 700 figurine! Queste sono quelle che sono uscite a noi! Beh, sicuramente, però, con tutto quello che ho trovato, posso completare l'album, eh! Vediamo dove giochiamo! Manco in casa! Vabbè, l'attacco o niente di che! Quel di AB così è un sacco esotico! Ma mai come la mia, ragazzi! Però meglio, perché almeno così non quittano! Secondo me non quittano, vedendoci! Noi giocheremo, però, con Sbalodelli e Malen davanti, eh! Fa una difesa, ragazzi, con... Egel, eccolo qua! 48 di passaggio! Mazza, manco... Ho fatto X, ve lo giuro, eh! Però qualche giocatorina ignorantella ce l'ho, eh! Oilund, aspetta, Oilund! Bravo, Oilund! Malen si gira! Malen si gira! Ah! Un gol bellissimo! Questo è rigore, signore! No, Pavlovich non batterà mai! Ragazzi, abbiamo uno dei tiratori... Guarda quanto va lento! Cioè, io se dovessi affidare la mia vita a un calcio di rigore, la farei battere! Guarda che non risulta, Balodelli, sta fermo! Ah, Super Mario Balodelli! Guarda che capelletto! Il giocatore suntuoso! 4 minuti e già gol! Beh, ma lo sapevamo, ragazzi! Sì, è così! L'Axir! Ma io devo fare una cosa, ragazzi! Mi dovrei mettere gli occhiali, però! Modric! Vabbè, ma Modric qui in mezzo, ragazzi, è suntuoso! La dà? No, ho già il quit! Balodelli! Balodelli! Spalodelli! Ok! Mi sa che il ragazzo ci saluta! Dove non quittano... Invece nooo... Oh, poggiaci! E adesso ho mai più! Allison! Bobby Moore! Esotica al punto giusto, mi piace! Ok, perdiamo pacchetti! Comunque questa qua, ragazzi... Sta Natasha... Le sa pacchi, eh! Come scivola... Oh, come scivola! Niente! Oh, no, no! Me la so bruciata così! Ma lui c'ha degli emi, c'ha gente che corre come trattori! Io vado in giro con Ego! Pavlovich! Nagsir lo manda al bar! Nagsir lo manda al bar! Il passaggio è quello che è? Balodelli! E niente! E questo c'ha... Corre 99! Verso Pavlovich! Quello è forse calcio di rigore! Non viene ravvisato dall'albero! Oilund! Si gira! Dato a quello più scherzo! No, n'è vero, n'è vero! Vai, Alexei! Alexandri! Alexandri! Va bene! Il bandolero! Mi esiste un uomo per un bandolero! Ah! Vai, bandolè! No, è il bandolero! Ma quanto corre questo? Eh, ma c'è Natascia! Vai, Natà! Bello! Ha degli emi, la butta giù! Sì, il portiere mio è inutile! 1-0 lui! Ah! Ah! Devo dire! Balodelli! Supera! BABY MOORE! Balodelli! Is a striker! Madonna, fortissimo balo, eh! L'unico che costa un pochino! Vai, Luxir! Mettiti a correre! Anche se la velocità l'hai lasciata in Olanda! Luxir! Il bronzino! Luxir! Aspetta! Oh! È il bandolero! No! Vabbè, ma lo sapete che io sto gol non l'ho mai fatto in tutti i FIFA e non lo farò certo oggi! Questa la perde, eh! Ah! Ma mia, Hegel si è sposta, ragazzi! Pavlovich! Esci il portiere! Eh, sì! Basta andare dritti! Non c'ho il difensore centrale! Hegel se l'ha andata al paese! Poi d'esternaccio, così! Oh, putr! Ci ha ciucciato! Non c'è, dopo, ovvio! Forse dovrei spostare, però in quel caso mi sembrerebbe un po' troppo facile! La terzina destra! Buona, questa è buona, eh! Malen! Sì, certo! Difensore centrale, allora in quel caso sarebbe un po' più attenzionabile la situazione! Ah, eccolo Hegel! No! In perfetto stile Iena! Bravo, Hegel! Mamma mia, ragazzi! Ho trovato una gemma pura! Bandolero, 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 bandolero! Eh no, se l'ha allungata, bandolero! Ha perso il momento! Ma è bandolè! Bravo! Ed è gol! Ed è gol! Il Giappone ha segnato! Con Oliver Hatton! Daniel! Tra l'altro Malen, io mi ricordo che sembrava essere tipo un attaccante fortissimo quando ho preso il Dortmund e giocava nel PSV o... Sì, nel PSV! Scuderia Raiola! Dimmi se sei un uovo! Vero un bandolero! Mamma mia, Hegel! È una mer... Possiamo dire, ragazzi, che lui mi ha fatto gol negli unici due diri che ha fatto! Così può dire? Così può dire? Bandolero! Aspetta, bandolero il movimento lo fa! Bandolero la pe... Eh, mamma mia, bandolero però c'ha due piedi che so due feri da stiro, eh! Allora, un 2-2 piuttosto bugiardo, in vero! Allora, ragazzi, ho fatto il cambio ruolo della vita! Alexei, là, l'ho messa a centrocampo! Bandiera rimane alto, è il bandolero! E Hegel ha a fare il terzino! Voi direte, sei un pazzo, Mike! Sì, sono pazzo, ma sono pazzo per la vittoria! Questa va a tentare pure Bonifacio! Vedi, vedi, vedi! Eccola! Alexei! Alexandri! Vedi, vedi, non la fermi, non la puoi fermare! Vabbè, no, perché io l'ho tirata, però! Comunque questo Bonifacio è troppo bello, eh! No, Hegel! No, mi sa che ho fatto la... No, ho fatto la minchiata, ragazzi! Era la mossa per la vittoria, ma loro! Non ho detto di chi! Vabbè, 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 vedi! Ci siamo difesi, ci siamo difesi, l'importante è difendere! Uh, la Xirra! Domanda al bar! Poi vabbè, c'ha dei piedi che so, due cocomeri in salita! Ballotelli! No, bandolero! No, quella balla era per bandolero! Alexei! Ma che è quello schifo! Bandolero! Mauro Bandiera! Proprio lui! Il bronzino che non dà scampo! Il bronzino che non dà... Pavlovich si comporta come un veterano, un giocatore sontuoso! Manciu, manciu! Natasha, lo manda! Tu la fascia! Aspetta che c'è Alexei! Oh sì? Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì L'ho detto, ragazzi, che era il cambio quello che avrebbe deciso la gara. A me sta palla Pavlovich. Mauro Bandiera, aspetta. Aspetta il momento, Mauro Bandiera. Aspetta, c'è un altro po'. Axir, aspetta. Oh, balo. Oh! E ci sta. Quando si inizia a girare così. Hey, Nord. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Perfetto, ragazzi. Tanto se hai buggato qualcosa, perché sento la musica a stecca. Questa sarà tosta, eh. Perché questo c'ha tutto al punto giusto. Capirai, abbiamo Vinicius contro Hegel su quella fascia. Ma c'è Alexei. Non si chiamerà mai così, però, ragazzi. Ma che me frega. Palla piena, signore. Palla piena. Ah, signori, abbiamo beccato il tagliardone, eh. A noi non ci importa, perché ci abbiamo Dolly. Dolly. No. E quello è fallo, signore. E beh, ma mi è uscito a cannone. Bene. Vai, Super Mario. Vai, Super Mario. Vai, Super Mario. In due! Eh, terzo anno va bene. Ci posso stare. Ci posso... No, non la devi battere Pavlovich. Bella. Balo... Balotelli! Non lo fermi, ragazzi. Balotelli ti purga. Tu puoi fare tutte le sbaggate che vuoi, ma poi c'è Super Mario. Cioè, con quello stacco imperioso. Luxeer. Alexei. Vai, Balotelli. Vai, 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 Balotelli. Contro Cannavaro. È tutto italiano. È tutto italiano. Schifo di tiro, Balot. Io riproporrei quello che ho fatto prima. Bella Modric a pennellare. Bello Balotelli a segnare. 2-0 eseguita. Te ne vai a casa, Tim. Te ne vai a casa. Beh, ragazzi. Non si scarta neanche oggi. Completate anche voi la nuova collezione di figurine WebAuro 2024 di Topps. La trovate su tops.com in edicola e nei supermercati. E magari sarete fortunati e troverete tutte le squadre con la licenza ufficiale di WebAuro 2024. Oh, e se non hai lasciato mi piace, guarda che l'Italia non vince.